Ciao ragazzi, sono tornato per un altro video. E in questo video, ti mostrerò come cambiare la tua immagine del profilo su Facebook. Allora, cosa stai aspettando? Iniziamo! La prima cosa da fare è avviare la tua applicazione Facebook. Ora vai al tuo profilo toccando il menu. Quindi tocca il tuo profilo. Ora tocca la tua immagine del profilo. Quindi tocca il seleziona l'immagine del profilo. Ora puoi selezionare un'immagine dalla tua galleria come immagine del tuo profilo su Facebook. Qui puoi scrivere una didascalia per questo profilo. In basso, puoi contrassegnare il semio di spunta se desideri condividere questa immagine del profilo nel fil delle notizie. Al termine, tocca un salva nell'angolo in alto a destra dello schermo. E questo è tutto. Hai cambiato la tua immagine del profilo su Facebook. Grazie per aver guardato.